Mamma mia, mamma mia, mamma mia, è ancora calda ragazzi, ancora calda, ce ne siamo liberati di questa trasforma qui, di questa squadra qui, di questo campo qui, con tutto rispetto sia ben chiaro eh, ma ce ne siamo liberati, ce ne siamo liberati, mamma mia, mamma mia, sul 2-1 ho visto fantasmi e streghe che non potete immaginare perché gliel'avevano la realtà a noi la palla, può capitare, Teo poi ha fatto una cosa gigantesca sul 2-2, però sembrava la solita partita con l'Udinese, lì, 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 poi tu fai l'errore, loro vincono, belli tranquilli, si chiudono e tu non rimonti più, invece, Teo Hernandez ci ha creduto, la squadra ci ha creduto, Rafa, tutti i ragazzi, ottima la difesa, non meritavamo di perdere sta partita, anche se fino al 2-1 loro non abbiamo fatto un bel secondo tempo, però poi ti ritrovi con un 3-2 che brucia come valore, brucia, io avevo avuto la sensazione sulla maglia, guardate, sapete come sono fatto, avevamo la terza maglia oggi e la volta che avevamo indossato la terza maglia Udine avevamo vinto 3-2, nel settembre 2015 Udinese Milan 2-3 con Sinisa in panchina con i gol di Balotelli, credo di Buonaventura e Zapata e quindi mi ero aggrappato scaramanticamente, esotericamente alla maglia, poi abbiamo fatto un buon primo tempo e col primo tempo l'abbiamo fatto bene, abbiamo creato di più dell'Udinese, siamo andati in vantaggio, poi è successo quel che è successo, il Milan ha fatto un tweet, nel nostro sport non c'è spazio per il razzismo, Milan sconvolto, Milan al fianco di Mike, la Lega Serie A ha condannato ogni forma di razzismo, mi sono arrivati dei messaggi via Twitter di tifosi che mi dicono cose su quello che, però io evidentemente su queste cose bisogna essere prudenti, seri e delicati, gli insulti razzistici sono stati, poi sono stati i cori, non sono stati i cori, non lo so, gli insulti razzistici sono stati perché Mike Mignano è una persona seria e le cose non se le inventa, così come non se le erano inventate a Cagliari nel 2022, quindi le cose sono successe, le cose devono essere stroncate, non ci devono essere mezze misure, non ci devono essere discussioni sportive sul razzismo, il razzismo è razzismo, punto, e va massacrato il razzismo, cosa che alla fine si è fatto, mi è sembrato in controllo di tutto l'arbitro Maresca che ha letto bene la situazione, a un certo punto mi è sembrato di vedere la stessa cosa di Boateng in Pro Patria Milan, quella era un amichevole di inizio 2013, Mignano non se la sentiva con gli insulti razzisti che aveva sentito e che aveva addosso di continuare, la squadra era con lui, noi siamo sempre al fianco di Mike, poi seguendo le indicazioni dell'arbitro è intervenuto lo staff, è intervenuto Alberto Marangoni, il team manager ha calmato il ragazzo, siamo andati in campo, siamo messi a giocare, l'Udinese ha fatto il gran gol del pareggio e poi nel secondo tempo noi siamo entrati non benissimo, invece è stato proprio il 2-1 dell'Udinese questa volta, negli anni scorsi sul gol avversario con l'Udinese solida che si mette lì poi contrasto su contrasto ci siamo afflosciati e questa volta invece all'inizio non siamo stati molto reattivi, poi però siamo riusciti a fare... e per noi l'Udinese ragazzi, io ho capito che l'Udinese ha 18 punti, ma per noi l'Udinese è chimica ostica, chimica... io amavo la biologia al liceo classico, non la chimica e quindi quando la chimica è ostica diventa ostica e noi abbiamo una chimica ostica con l'Udinese, ma ne siamo venuti a capo, hanno segnato tre giocatori arrivati la scorsa estate, adesso credo che sia un tema abbastanza superato, non si parla più del mercato del Milan nel caso in cui qualcuno avesse in mente di parlarne, ha segnato Loftus Schick che abbiamo preso dal Chelsea, ha segnato Luca Jovic come sempre, che abbiamo preso dalla Fiorentina e ha segnato Noah Okafor, Noah Okafor è Noah Okafor, però non è un caso che abbia segnato Noah, perché Alessandro Florenzi i calci d'angolo li sa calciare alla grande, io quando va a battere l'angolo Alessandro Florenzi, Alessandro Florenzi ha battuto l'angolo dallo stesso punto in cui lo batte De Paul quando perdemmo 1-0 con Giampaolo in panchina con il gol di Beccao, ho avuto una sensazione lì, ho sperato nel bell'angolo di Alessandro Florenzi, alla fine è nato il gol di Okafor, è la nostra vittoria che ci teniamo stretta, strettissima, io sono conto, allora ragazzi non abbiamo fatto niente, non è successo niente, io non guardo né avanti né indietro, la cosa bella che ci consente questo scorcio di stagione è guardare soltanto noi stessi, la nostra maglia, i nostri ragazzi, i nostri giocatori in casa nostra, abbiamo questo straordinario regalo di guardare solo noi, di non farci avvelenare da nessuno e allora godiamoci le nostre partite, oggi la partita ci ha fatto fremere, ci ha fatto vibrare, ci ha fatto sognare all'inizio, ci ha fatto arrabbiare sull'1-1, ci ha fatto imprecare per l'errore del 2-1 e poi ci ha fatto volare, io credo che il calcio regali delle emozioni complessive di fine stagione, ne abbiamo provata una straordinaria nel 2022, ma regala anche delle emozioni day by day, di partita in partita e quella di oggi è un'emozione che ci teniamo stretta perché vincere così 2-1 all'ottantesimo per loro e poi alla fine tu vinci 3-2 su un campo che non è per te ostico di più, insomma c'erano tanti tabù da sfatare, io sullo 0-0 avevo iniziato a evocare i tabù, in telecronaca avevo detto, insomma su azione con l'Udinese non segniamo dall'agosto 2022 ed è arrivato il gol di Loftus, poi però questa partita qua sembrava esserci scappata di mano, alla fine l'abbiamo vinta e alla fine ci sta, alla fine abbiamo creato di più dell'Udinese, l'Udinese quando ha segnato il gol del 2-1 l'ha segnato sul nostro errore, ma prima aveva avuto una grande occasione con la grande parata di piede di Mignan. Mignan che alla fine è stato serio, concentrato e professionale, la squadra sostanzialmente mi è piaciuta tutta, per carità, da Teo e Leao ti aspetti sempre qualcosa in più, ho avuto tante occasioni oggi Giroud, ecco Giroud noi spesso non gli diamo tanti palloni, oggi ho avuto tante occasioni Giroud, quindi abbiamo buttato tante volte la palla dentro, il mister ha rischiato molto e alla fine è stato premiato perché abbiamo finito la partita con Okafor, Giroud, Jovic e Leao in campo, 4 punte pure, 4 punte pure, cioè non avevamo più niente da difendere, siamo andati con coraggio a rischiare il tutto per tutto e ce l'abbiamo fatta, insomma il Milan ha vinto la sua partita, il Milan di gennaio, ce lo siamo già detti, lo ripeto, il Milan di gennaio 2024 non è nemmeno lontano parente del Milan di gennaio 2023 e quindi niente, siamo contenti, siamo contenti per la partita, siamo contenti per le vibes della partita, siamo contenti per i saliscendi della partita, perché se avessimo perso come a un certo punto sembrava sarebbe tornata la solita settimana il Milan, gli alti e bassi, sarebbero spuntati compratori anche dalla camcaccia, insomma tutte le robe con cui si suggestionano attorno a noi e invece abbiamo vinto noi e insomma attorno a noi parlino, diccano, facciano, brighino, ma noi siamo felici della nostra squadra, siamo felici della nostra squadra perché oggi era una partita, dovevamo dimostrare oggi che non siamo bravi solo quando dobbiamo uscire dalle spalle al muro, quando dobbiamo vincere le partite bivio, siamo capaci anche di vincere partite che ci diano continuità e questa è la quarta vittoria consecutiva in campionato e quattro vittorie consecutive in campionato ragazzi non si buttano via, poi voi mi dite ma l'Udinese è in fondo alla classifica, sì ma contro di noi non gioca da squadra in fondo alla classifica, l'Udinese a Firenze meritava di vincere, l'Udinese ha battuto il 30 dicembre il Bologna, quindi certo se l'Udinese avesse vinto stasera e su tre partite in campionato due fossero state vinte contro il Milan, insomma sarebbero girate a elica in questa vita, nella prossima vita e nell'altra ancora, invece così non è stato, ci teniamo il nostro 3-2, rispettiamo l'avversario alla fine questa volta però, se permettete, abbiamo vinto noi e siamo felici di questo, a domani!